Vuoi migliorare le tue fotografie? Guarda questo contenuto fino alla fine perché andremo a commentare le fotografie di uno di voi e andremo a cercare di capire come possono essere migliorate e questi sono consigli che vanno bene un po' per tutti perché servono a progredire nel nostro viaggio fotografico. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per mestiere. Su questo canale cerco di portare le mie esperienze e i miei consigli in maniera tale che vadano a beneficio di tutti quanti voi. Se volete supportare il canale potete farlo in maniera semplicissima e gratuita cliccando il bottone iscriviti qui sotto e lasciando anche un like a questo contenuto. Adesso ci tuffiamo dentro nel mio computer e andiamo a vedere qualche immagine. Cominciamo con questa fotografia di un fiore perdonatemi ho il pollice nero non capisco quasi niente di piante qualcuna la riconosco riconosco l'acero però questo fiore non sono sicuro è un giglio potrebbe essere un giglio. Qui stiamo parlando di uno scatto macro direi che l'esposizione va benissimo mi sembra un contesto di luce naturale è una fotografia abbastanza descrittiva naturalistica. Io forse avrei fatto una scelta lievemente diversa nel senso che io vedo in alto a sinistra e in basso ci sono dei petali di altri fiori. Ora il petalo in basso mi va benissimo il petalo in alto che si vede appena è quasi tutto fuori dall'inquadratura. Io lì sono della scuola o tutto o niente cioè o lo tiri un po più dentro oppure lo escludi perché così si c'è ma lo vedo non lo vedo io o l'avrei messo più presente oppure l'avrei scartato completamente anche se mi rendo conto che magari essendo una scena naturale magari c'era vento i fiori si muovono e quindi non sempre è facile. Come sempre ragazzi io vado a darvi le mie impressioni come se fossi un giudice di Masterchef però lasciano il tempo che trovano e io vi do solo il mio parere poi voi mi potete sempre dire a me piace così no a me piace così non me lo potete dire questa è una giustificazione inaccettabile non è che se una cosa piace a noi allora va bene quello che mi potete dire infatti io vi invito parliamone dopo nei commenti quello che mi potete sempre dire è la difficoltà oggettiva riscontrata è stata questa per cui non è stato possibile fare altrimenti e io quella l'accetto a me piaceva così non è una motivazione perché a me piaceva così è la motivazione che ti dà chi non ha capito come mai poteva fare qualcosa di meglio e sta giustificando il proprio errore quindi ripeto io non sono un giudice di Masterchef però accetto tutte le giustificazioni tranne a me piaceva così per il resto direi che va bene l'esposizione è perfetta i colori sono giusti direi che possiamo andare avanti qui abbiamo una fotografia notturna di scusatemi io non non capisco dove dove è questo posto però sembra una località di mare con questo ponte con queste persone a livello personale vi posso dire che l'inquadratura mi piace anche simmetria direi uno scatto del genere va benissimo quello che a me non piace assolutamente in questo tipo di contesto prendete con le pinze quello che dico perché poi io non conosco il contesto mi rendo conto che magari uno si trova a passare di lì per caso con altre persone con la famiglia piuttosto che scatta la foto così non siamo tutti fotografi professionisti non siamo tutti lì per portarci a casa il pane quindi questo lo capisco benissimo però se mi chiedete un parere io vi dico che cosa si poteva fare di meglio io qui avrei fatto un sacco di cose per farla meglio primo se stiamo facendo uno scatto simmetrico deve essere simmetrico davvero quindi io avrei provato a stare simmetrico davvero con con questi lampioni di design che stanno sui lati avrei cercato di tenerli equidistanti dai bordi questa è la prima cosa e potrei anche passarci sopra su questo quello su cui faccio fatica a passare sopra è il bilanciamento tra le luci e le ombre ovvero non è che sia sbagliato perché in un contesto del genere sei a mano libera puoi fare solo così da quel punto di vista la foto va bene in un contesto come questo però io avrei usato il treppiede una posa lunga e un bracketing in maniera tale da avere l'esposizione leggibile sia sui punti luce sia sul cielo il cielo nero in questa maniera quella costruzione giallina piccolina sullo sfondo che si perde metà tra gli alberi e metà tra il cielo è un peccato averla così perché non è leggibile io non capisco che che tipo di scena c'è lì dietro non capisco se c'è un rilievo monduoso se ci sono soltanto le cime degli alberi e poi il cielo è un peccato io qui avrei fatto bracketing a sette stop per avere la massima leggibilità su tutta la scena avrei fatto delle esposizioni lunghe in modo da cancellare le persone avrei magari scattato più tardi durante la sera o durante la notte addirittura per non avere gente sul ponte secondo me sarebbe stata molto più di impatto facendo così procediamo e qui abbiamo una scena che tiro a indovinare sarà un alba o un tramonto non ha neanche molta importanza qui abbiamo una silhouette per quanto la composizione vada bene io qui credo che avrei lavorato un pochettino di più in post e devo dire una cosa in questa in questa selezione in questo portfolio io vedo sia immagini in dng sia immagini in eic quindi abbiamo delle foto sia grezze sia forse semi lavorate è possibile che questo essendo un dng è possibile che non sia stato lavorato quindi alla foto così come era in macchina quindi la prima cosa che a me verrebbe da dire è ma accendiamoli un po i colori di questo cielo perché mi sembrano un po smorti ma è normale che siano smorti perché questo è un file grezzo quindi io lo vedo così è possibile svilupparlo in quest'ottica ragazzi io vi suggerisco quando mi sottoponete qualcosa di svilupparlo e di mandarmi un jpeg perché io su un dng su un raw posso giudicare solo l'esposizione in questo caso l'esposizione è corretta l'esposizione e la composizione posso giudicare solo queste due cose in questo caso la composizione va bene l'esposizione pure va bene perché abbiamo tutte le informazioni che ci servono per tirare fuori una bella silhouette di questo cielo una cosa mi viene da dire abbiamo un bel cielo un bel tramonto una bella alba quello che è limitarci a fare una silhouette è un po poco e mi rendo conto che magari non c'era nient'altro che uno dice che devo far sto qui in mezzo al nulla sono che ne so in sardegna e non c'è niente sono sul litorale ok però è sempre un peccato se riuscivamo a trovare qualcosa di più rappresentativo da mettere dentro perché così veramente è una pianta contro il cielo capite cosa voglio dire cioè per quanto è composta giusta per quanto è esposta giusta però non mi racconta quasi nulla è molto descrittiva ed è un peccato perché una foto con un cielo secondo me vuole essere evocativa vuole essere emozionale però così risulta descrittiva invece quindi cerchiamo di raccontare qualcosa con le nostre fotografie oltre a ero lì a quell'ora del giorno questo secondo me è molto importante andiamo avanti qui abbiamo un'altra immagine che diciamo che globalmente funziona perché abbiamo una spiaggia abbiamo questo cos'è un come cavolo si chiamano quelle barche lì non me lo ricordo più comunque abbiamo questa questa barca della della guardia costiera una spiaggia deserta allora c'è poco da dire su questa immagine anche qui secondo me ha lo stesso problema di prima ovvero io mi rendo conto che siamo in quel tipo di contesto c'è quel tipo di scena arriviamo lì e facciamo questa foto magari avendoci anche giocato avendola anche composta rischia sempre di risultare molto descrittiva è poco evocativa perché comunque è una spiaggia deserta il cielo è abbastanza slavato e questo non è colpa di nessuno e stiamo solo esaminando gli ingredienti che abbiamo il cielo è abbastanza slavato il mare è un mare che non è né mosso né effetto seta quindi è un mare abbastanza sciapetto c'è un'ombra lì che non mi significa granché cosa sarà una torretta qualcos'altro insomma io avrei cercato di comporla diversamente io sarei andato vicino a questa imbarcazione avrei reso più protagonista l'imbarcazione perché così è semplicemente una foto della spiaggia che però non mi emoziona è sempre difficile fare questo tipo di critica perché qui non c'è tanto da criticare cioè la composizione è giusta l'esposizione va bene il problema secondo me è il cielo che non mi dice niente un cielo che era cioè con la foschiera al limite del bruttino questo cielo secondo me quel giorno dobbiamo anche considerare che noi qui abbiamo una fotografia in cui abbiamo 30 per cento di cielo vuoto 30 per cento di spiaggia vuota e 30 per cento di barca con con l'orizzonte in mezzo io avrei forse l'avrei fatta orizzontale questa perché avere tutta quella spiaggia e tutto quel cielo che non sono belli non mi sta dando chissà cosa io l'avrei fatta panorama e avrei preso dentro solo l'imbarcazione ve la butto lì cosa ne dite fatemelo sapere nei commenti andiamo avanti e questa funziona molto di più vedete quello che vi dicevo prima se questi scogli fossero stati lontani come erano prima non funzionava invece così funziona di più perché abbiamo una bella riga del bagnasciuga con poi piani di lettura diversi con questi questi scogli anche se sembrano artificiali queste barriere che arrivano fino all'orizzonte con poi dietro un cielo che è pure meglio rispetto a prima perché la direzione del sole è cambiata quindi questa secondo me funziona molto di più anche a livello di colori è tutta un'altra storia è molto meglio questa andiamo avanti qui abbiamo a livello di colori va benissimo a livello di composizione dunque sapete che c'è la vecchia scuola che dice di non mettere l'orizzonte al centro perché l'orizzonte è più forte se lo mettiamo sul terzo superiore sul terzo inferiore io non sono mai stato amante delle regole però più invecchio e più penso che chi ha coniato queste regole avesse ragione io qui avrei fatto una scelta cioè decidi che o è più importante il cielo è più importante la terra e la composizione risulterà più forte poi dice ma c'era un cielo meraviglioso e un mare meraviglio falle tutte e due fanne una con l'orizzonte in alto e una con l'orizzonte in basso così ce le hai tutte e due però l'orizzonte in mezzo a me da lascia sempre quella sensazione un po di incompiuto per il resto colori belli esposta benissimo quindi da quel punto di vista niente da dire una cosa che non mi piace c'è un'ombra non so se la vedete c'è un'ombra in basso a destra e mi domando se sia un'ombra della persona che fotografava che era lì in piedi oppure se sia un'ombra di qualcos'altro me lo domando per curiosità ma non ha la minima importanza perché di qualsiasi tipo di ombra si tratti andava evitata e potrebbe ancora essere evitata perché possiamo rimuoverla in post produzione ritagliando il quadro o andando a toglierla con il timbro clone comunque io la farei sparire quell'ombra lì perché non è tanto che è brutta e che a me casca l'occhio e dico cos'è è fatto apposta non credo quindi è una disattenzione tutto quello che ci fa pensare che ci sia una disattenzione dobbiamo eliminarlo in macchina se riusciamo in post se ci è scappato andiamo avanti io non so che cosa sia questa costruzione sembra una casa disabitata sembra la casa maledetta di american horror story non so che cosa sia non mi fa impazzire come è stata composta però mi rendo conto che forse è l'unica angolazione possibile perché magari andando avanti io l'avrei preferita presa da una da un pochettino più avanti magari simmetrica però forse non era possibile forse c'erano degli impedimenti quindi diciamo pure che vada bene così sicuramente io avrei provato a correggere le verticali in post produzione e si può ancora fare per quanto riguarda l'esposizione non mi fa impazzire perché abbiamo il cielo che ok funziona però abbiamo un po scuro il nostro soggetto in questo caso di nuovo e tenete conto io lo so che non sempre è possibile fare tutto però qui io avrei fatto un hdr avrei fatto un hdr in maniera tale da tirare fuori più dettagli del mio soggetto principale perché anche se è bello avere il cielo esposto correttamente il mio soggetto principale è un po scuro così io avrei fatto un bel bracketing per tirare fuori tutti quanti i dettagli mi domando anche che cosa sia questa cioè è un punto di interesse è un qualcosa di interessante che è una è una delle cose da visitare in quel posto perché io la guardo e dico sì mi sembra veramente solo una casa buttata lì questa è un'impressione che ho anche prima con il tramonto ragazzi cerchiamo di ragionare sui soggetti che fotografiamo perché non tutti i soggetti sono degni di essere fotografati se io cammino per la strada e fotografo un tombino la butto lì non è che siccome l'ho fotografato acquisisce valore è semplicemente un tombino e tale rimane a meno che non succeda qualcosa per cui quel tombino mi diventa degno di nota ma non è detto che succeda questa è una cosa proprio a livello di narrativa di racconto facciamo attenzione anche ai soggetti che fotografiamo perché se ha senso fotografarli per un qualche motivo e non dico che questo non sia il caso magari il senso ce l'ha sono io che non lo so e che non lo capisco perché non conosco questo posto la domanda rimane valida se è un posto così difficile da identificare un punto di interesse così sconosciuto mi domando quanto senso avesse fotografarlo anche perché non è bellissimo la strada è tutta dissestata a me sembra una roba diroccata lasciata lì può essere urbex in questo caso lo apprezzerei perché a me piace molto l'urbex ma volevo vedere dentro allora quel punto insomma sono tutte riflessioni che vi lascio fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti andiamo avanti qui invece ecco questa mi piace molto di più qui abbiamo un posto che non capisco quale sia ma non ha importanza perché questa è evocativa perché c'è un bel cielo è anche composta abbastanza dritta quindi su questa non ho gran che da dire magari si poteva provare a farla più ampia però diciamo che va benissimo così è un dettaglio su questa non ho nulla da dire andiamo avanti qui secondo me abbiamo lo stesso pro gli stessi due problemi di prima ovvero orizzonte al centro anzi tre problemi di prima perché vedo un'ombra no forse è una fune una fune di ormeggio non è un'ombra quindi quello fa niente però qui abbiamo stessi problemi di prima orizzonte al centro che mi lascia sempre quel senso di non sapevo se stavo fotografando il mare o la terra io preferisco una scelta netta e poi queste barche in lontananza con questi scogli in lontananza è tutto così lontano che non emozionerà mai una foto con tutto così lontano è impossibile che emozioni una foto con tutto così lontano anche perché di nuovo il cielo non è sto splendore è un cielo normalissimo cioè c'è anche a milano un cielo così quindi è un'immagine oltretutto con le barche messe lì così che non si vede nemmeno che tipo di imbarcazioni sono ci sono dei fuori bordo coperti quindi sono delle barche lasciate lì così non sta succedendo niente non vedo nulla che attiri il mio interesse in un'immagine di questo tipo è esposta bene va bene come a livello di tecnica però la composizione e il racconto soprattutto il racconto è quasi completamente assente cioè io qui ci vedo proprio un ero lì in piedi e ho fatto la foto e questo è un peccato perché potevamo o non farla e presentare qualcos'altro o comunque raccontare qualcos'altro secondo me qui andiamo con un bel dettaglio di una non mi ricordo che pianta è ma queste sono piante marittime ci sono anche dove andavo al mare io l'immagine va bene è un controsole dove si vede bene la trama di queste foglie è un esercizio di tecnica perché qui stiamo facendo un esercizio di tecnica con la macro e va bene però anche qui io quello che mi domando sempre è perché uno che non ci conosce dovrebbe guardare e apprezzare queste immagini perché stiamo facendo un esercizio glielo stiamo facendo vedere perché c'è un parassita che si è mangiato la foglia e questa è una foto naturalistica per descrivere quel tipo di evento cioè io questo mi domando perché la zia ernesta che è stata è stata in vacanza tanto tempo e poi torna qui e dice dai fammi vedere cosa hai fatto nella vita mentre io ero via cioè perché dovremmo farle vedere questo tipo di immagini che cosa le racconta di noi capite cosa voglio dire secondo me quest'immagine è uno snapshot è una foto fatta sì ok passavo di lì mi piaceva la foglia l'ho scattata però non dice niente di me alla zia ernesta se non che avevo comprato un'ottica macro e alla zia ernesta non gliene frega niente che avevo comprato un'ottica macro non lo so cosa le piace alla zia ernesta non che non è che chiacchieriamo tanto ultimamente anche perché poi lei è in pensione sempre in giro però secondo me voleva che le raccontassimo qualcosa di più di una foglia per quanto sia esposta correttamente messa a fuoco correttamente però dice poco di chi l'ha scattata non so se riesco a essere chiaro su questo aspetto andiamo avanti questa a me piace perché a me come sapete la simmetria piace molto però la dobbiamo fare bene quindi questo lampione è al centro simmetrico con dietro un palazzo simmetrico però è il lampione spasato rispetto al centro dell'edificio è un peccato questa è una disattenzione che ci costa la stellina della foto più bella questa poteva essere la foto più bella di tutto il portfolio peccato che sto lampione fuori asse se fosse stato dritto sarebbe stata decisamente la migliore di nuovo il cielo non è un granché i lampioni è molto bello che siano accesi non capisco da dove venga presa questa scena perché non ci sono riferimenti almeno io non capisco che palazzo è magari è famosissimo sono io che non lo conosco peccato che non sia centrata perché poteva essere la cosa che funzionava di più a livello puramente compositivo e tecnico perché di nuovo qui abbiamo a che fare con un tipo di scatto architettonico che per quanto a me piaccia di nuovo mi racconta molto poco di chi l'ha scattata quindi secondo me la cosa su cui lavorare in questo senso è un po' questa e questa ragazzi era l'ultima fotografia di questo portfolio ora ricordo a tutti per chi se lo fosse dimenticato da video precedenti il modo per partecipare è scrivetemi su instagram e mandatemi un link un link che non scade con sulle vostre immagini quindi no i transfer che scade subito perché io ci metto tempo a guardarle mandatemi amazon photos o google drive un link che non scade così che io possa guardarle una decina di immagini è l'ideale ci metterò del tempo perché siete in tanti detto questo ragioniamo un attimo su questo portfolio secondo me qui ci sono delle cose su cui possiamo lavorare che non sono tecniche sono interpretative e narrative e lo dico attenzione a un fotografo su cui sono andato a vedermi il suo instagram le foto che pubblica su instagram secondo me sono molto meglio di queste che mi ha sottoposto quindi mi domando anche e magari l'autore ce lo farà sapere nei commenti perché mi ha mandato queste magari perché queste erano foto su cui aveva dei dubbi e voleva un confronto su queste immagini che magari erano risultate più problematiche rispetto ad altre che aveva già pubblicato può essere secondo me il più grande problema di queste immagini i problemi sono due il primo problema è che in alcune immagini si poteva fare molto di più in alcune immagini si poteva fare un treppiede un hdr insomma si poteva metterci più impegno per catturare quella stessa scena in modo che fosse bella invece certe volte sembra e probabilmente è buttata lì perché magari uno stava passando e quindi l'ha buttata lì secondo me la cosa di più che si poteva fare era fare di più quindi prendersi più tempo treppiede composizione giocarci passarci più tempo la seconda cosa è raccontare qualcosa e guardate ci sono passato anche io ci siamo passati tutti io mi compro un'ottica nuova che cosa faccio quando compro un'ottica nuova mi fotografo gli alluci è evidente perché devo capire come rende quell'ottica devo capire come si comporta perché quando andrò a farci un lavoro deve essere un prolungamento della mia mano devo conoscerla quindi per conoscerla mi fotografo gli alluci fotografo il mio gatto fotografo il panino che sto mangiando è normale però quelle foto e le foto dei miei alluci e le foto del panino non le faccio vedere alla zia ernesta di ritorno dalle vacanze per dirle guarda zia cosa ti sei persa no perché quelle foto raccontano zero sia di me sia di dove sono stato sia di che cosa ho fatto se voglio raccontare qualcosa devo fare altro ed è molto importante lavorarci su questa cosa per capire che cosa raccontare che cosa far vedere fare delle fotografie a una scena che ci piace spesso non è sufficiente per emozionare gli altri talvolta non è sufficiente neanche per richiamare in noi stessi l'emozione di quando l'abbiamo scattata quindi lavoriamo su questa cosa lavoriamo su raccontare qualcosa presentare le immagini in maniera giusta perché in questo caso ripeto è una mia è una mia supposizione che mi abbia mandato queste foto perché voleva un confronto su queste perché c'era qualcosa che non lo convinceva e può essere mentre molte altre che ho visto su instagram erano più convincenti più comunicative c'era più emozione in altre immagini che ho visto secondo me quella è la direzione giusta lavorare su immagini che emozionino di più rispetto a queste che mi sembrano molto descrittive molto esercizio molto si ho composto bene si ho esposto bene però io non ci vedo non ci vedo il fotografo in queste foto queste secondo me sono le cose su cui lavorare e poi potremo eventualmente riparlarne signori io come sempre cerco di non dilungarmi troppo vi ricordo che gli appuntamenti sono generalmente tre a settimana ma io rispondo alle vostre domande anche con degli shorts verticali per cui iscrivetevi così non rischiate di perderveli spero che sia stato tutto di vostro gradimento e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video